Il special guest che è il nuovo programmino di stamattina, grazie al nostro ospite che ha dato il programma a questa trasmissione. Il primo argomento di oggi, che è quello che tratteremo, è un argomento che ho preso da Facebook, perché oramai, sai come anche i giornali, anche le testate giornalistiche tipo TG Conti o Repubblica, guardano su Twitter e su Facebook le persone famose cosa scrivono e poi gli fanno un articolo. No, non gli facciamo un articolo, ma gli dedichiamo un parlato. Perché oggi nel mondo del digitale anche Facebook è diventato un punto attendibile di attualità. Esatto, chiaramente, dato che la disinformazione in questo paese dilaga, i giornalisti poco se riprendono. Per esempio l'altro giorno Fabio Volo su Facebook ha scritto non userò più Facebook perché è stupato, perché ha avuto delle incomprensioni col pubblico di Facebook e gli scriveva. Due minuti dopo TG Com cosa ha fatto? Gli ha fatto un articolo su TG Com che parlava proprio di stare qua qua. Fabio Volo abbandona Facebook, capito? Eh, perché è diventato proprio un evento mediatico attraverso il quale Facebook è diventato proprio una mossa attraverso la quale la gente prende ispirazione ma diventa proprio una vera e propria leva della cultura italiana e mondiale ormai. Esatto, è diventato proprio fondamentale per l'esistenza umana quasi. Ma al di là di questo volevo parlarvi di Vasco perché oggi, aspetta, ripartiamo dall'inizio, cosa succede oggi? Esce il nuovo film in 3D di Liga V del Campovolo, del concerto di questa estate al Campovolo, viene fatto in 3D, viene progettato, stasera esce in tutte, progettato, viene, come si dice? No, progettato. Progettato. Progettato, un voto di memoria improvviso in tutte le sale. Allora Vasco cos'è che ha scritto? Per chi stasera non avesse voglia di vedersi un film in 3D, non avesse voglia di mettersi gli occhiali o di uscire, è consigliato vivamente vedere un suo clipino su Facebook che riguarda il suo concerto di San Siro. Consiglia la sua visione. Esatto. Però siamo molto curiosi di sentire l'intervista che tra poco avverrà a Radio DJ, che è una delle nostre principali concorrenti radiofoniche, sulle quali ci sarà una intervista in diretta con Liga Bue, il quale dirà come e perché. Vi daranno anche questa notizia di questo annuncio di Vasco su Facebook e attraverso il quale vedremo, sono molto curioso di sentire Liga Bue cosa dirà, quale sarà la sua impressione? Io penso che Liga Bue non se la prenda tanto perché è una cosa assolutamente di un'ironia incredibile. Ma adesso noi dobbiamo andare avanti con la musica, questo spezzone interessante di vita attualità e Facebook è andato a finire, andiamo avanti con la prossima dei Cooks. Jack of the Earth!